Luca, Luca qua, Luca, a mano G. Luca, Luca, Luca. Grazie. Grazie a Roma, Luca. Perché? Stenta i ragazzi. Stenti, i bambini. Stai, stai. Ci stiamo andando a sbattere. Ragazzi, ragazzi, non mi fate male? Non mi fate male, siamo male. Stai a un gatto dietro. Smesso. Attenzione dietro. Luca, su Forza Roma, Luca. Forza Roma, Luca. Poi dici Forza Roma. Forza Roma. Oh, ragazzi, per Forza Roma. Vai, per Forza Roma, dai. Mina, 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 mina. Luca, Luca, qua, Luca. A mano G. Luca. Ok, una, una, una. Grazie. 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 Vai, facciamo, vai. Paolo, vai. Paolo, vai. Stiamo andando a sbattere. Ragazzi, 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 non mi fate male? Non mi fate male? Non mi fate male, siamo male. Stai a un gatto dietro. Smesso. Dai. Attenzione dietro. Luca, su Forza Roma, Luca. Forza Roma, Luca. Luca. Forza Roma, Luca. Perché? Attenta i ragazzini. Attenti i bambini.